Eccoci Anto, siamo qui arrivati finalmente al test più importante sul campo ma prima di tutto, calcisticamente a te, chi ti ha svezzato? Ora devo ringraziare Franco Farina che è stato il mio allenatore per diversi anni a Monza adesso fa il secondo d'Antonino Asta quindi devo ringraziare sicuramente lui Ora Anto ti voglio vedere qui, perché giocare a calcio sei capace Questa l'abbiamo capito, qui c'è un panno lì, immagino che tu non abbia mai cambiato panni no? Non abbiamo bambolotti perché abbiamo cercato bambolotti ma non ci sono Non ancora, non ancora, beh avremo bambolotti Immagiamo che questo sia un bambolotto, beh come lo metteremo? Proviamo, non ho più panni d'idea Così Quindi Rappo Non tenesti di sotto, giusto? No Oh mamma No non so io, eh Tu che sei bravo, fammi vedere te No, allora, qui nessuno è nato imparato, quindi nessuno Io c'ho ancora 6-7 mesi almeno 5 amore 5, 6-7 mesi e già due mesi Sì, esatto Scappa i primi due lui L'importante è vedere Dove ci sono gli strappi e va di dietro Ok? Ecco la che la bambina deve essere rivolta verso di te Eh, giustamente perché non la metterai di faccia Facilissimo Allarghi gli strappi L'avvolgi Mi raccomando la cremina, eh Certo Borotalco e cremina Mi raccomando la cremina E il nostro pannolino È perfetto Bravo Eli Che li fai Luca? Beh, è stato bravissimo lui Non distruggere Lasciamo così il cuscino Il coperaturo Il coperaturo Voto a ragazzi Ragazzi a inizio Io c'ho tempo Io c'ho tempo a tempo Ecco Da oggi incomincerò a esercitare Alla sera Tutte le sere Tutte le sere Lo trovo lì con il tuo cuscino Grazie a tutti